Eccoci qua, seconda puntata della chiacchierata di strutturata, abbiamo una costa lì assolutamente professionale. Ciao carissimo. Ciao, ciao Michele. Ciao, ciao. Allora, siamo tutti ancora un po' stanchi, anche perché ieri ho avuto, no, l'altro ieri, un bel dibattito con una conferenza con Elsa a Torino, però questo ha aggiunto un ulteriore viaggio, gente, persone. Thomas e Gianluca hanno detto tutto? Di Milano, Milano saltiamo, andiamo avanti con la cronaca, cosa dici? Andiamo avanti con la cronaca, continuiamo a ringraziare chi è venuto, è stato un successo, non c'è altro da aggiungere, altrimenti sembra che siamo autoreferenziali. Certo, vero, andiamo avanti, cerchiamo di far meglio. La cronaca ne offre tutti i colori, io sono un po' preso, forse per ragioni personali mie, nessuno di interesse, e anche un certo senso di rabbia, perché purtroppo si vedeva venire da quando sta accadendo in Siria, grazie chiaramente all'accordo fra l'anche mio, purtroppo, presidente, traditore una volta ancora, Trump e Erdogan. Non lo so, l'unica cosa che io credo rilevante dire, perché poi credo che le persone che ci seguono sappiano, è che ancora una volta la nostra inanità in quanto Europa, nelle questioni di politica estera, anche quelle molto vicino a noi, perché, santo Dio, questa è la Turchia, cioè un membro della Nato e per lungo tempo un candidato all'entrata nell'Unione, oltre che un grosso vicino a cui abbiamo quantità di scambi e relazioni, anche amichevoli, anche amichevoli, io ho studenti turchi, sono stato un amministratore, e l'imperialismo turco non molla, insomma. È molto triste, io non ho tantissime cose da dire, nel senso che non leggo di geopolitica da tempo, me ne sono un pochino disinteressato negli ultimi due anni, è molto triste vedere, ma intanto una cosa di solidarietà alla nazione kurda, non lo chiamo neanche stato una nazione kurda, perché c'è stato adesso, cioè le truppe sono entrate in azione, non si prevede nulla di buono. Leggevo qualche giorno fa che questa offensiva potrebbe paradossalmente di dare slancio anche al Daesh, al califato? Daesh, sì, sì, questo alcuni analisti lo dicono, perché di fatto le truppe, le truppe chiamiamole, i kurdi nelle varie organizzazioni che siano anche abbastanza unificate, avevano creato un'assembianza di Stato, di ordine, di garanzia, però la zona non era... ripulita e dubito che... Allora qui il problema è, i turchi vanno dentro per... Cioè sono mille scenari, no? I turchi... Allora, il motivo principale turco è banale, quello che chiunque conosca un po' la storia sa, che c'è da sempre, da tempo in memore, no? Una rivendicazione di un'etnia kurda che ha attraversato periodi, orientamenti, le cose più strane di indipendenza. Questa etnia kurda è distribuita storicamente, era parte dell'impero ottomano ed è distribuita dopo le partizioni a post Prima Guerra Mondiale, è distribuita in ben quattro paesi. Turchia, Siria, Iraqi e anche un pezzettino che arriva verso l'Iran. E cancellata, no? Per mille ragioni, in parte perché a un certo punto il loro, nella fase pesante della guerra fredda, il loro partito nazionalista principale aveva deciso di affiliarsi all'Unione Sovietica, quindi diventare comunista, in parte perché ovviamente, come spesso accade in queste situazioni, sono dedicati al terrorismo, alcuni di loro, e quindi sono diventati pari a internazionale. Questi da, praticamente, da sempre inseguono il sogno delle nazioni. Io non so dire, su queste questioni di politica internazionale, decidere se una cosa è giusta o meno. Non puoi utilizzare il criterio del giusto. È una domanda legittima, probabilmente illusoria, utopica. Ed ovviamente dove c'è più forza, dove vanno più forza, dove vanno inserire più dentro la Turchia e lì c'è da sempre una decisione di lungo periodo. Qui non è Erdogan. Va detto che Erdogan, su questo, è coerente con una tradizione politica turca che va al di là di lui. Lo precede e probabilmente lo seguirà. E cioè che niente. Tutte le volte che puoi colpire i kurdi e tutte le volte che i kurdi si costruiscono in autonomia, tu mi colpisci. Però, però, una cosa. Adesso rischio, cioè, entro nell'autoreferenziale. A proposito di Erdogan, se ricordi, quando ci fu quel tentativo di colpo di Stato, noi fummo fra i pochissimi a dire che era una cosa che avrebbe portato più disastri che non risultati positivi. E ci beccammo anche un discreto numero di insulti. Almeno io mi beccai un discreto numero di tempo credo che eravamo ancora... non facevamo ancora i video. Non facevamo i video, non facevamo i video, però ci troviamo sulla stessa posizione in cui si diceva che questa cosa del colpo di Stato fallito, prima ancora che fallisse poi, avrebbe rafforzato Erdogan come poi effettivamente è stato, avrebbe esacerbato alcune politiche che Erdogan aveva già annunciato stava per mettere in atto. E infatti poi abbiamo visto che cosa è successo, cioè che si è rivelato un dittatore, cioè una persona che è tutt'altro che a dispetto delle elezioni, vero o false che sia, è tutt'altro che democratico. Ah no, cioè lui è un autocrata nella miglior tradizione. Devo dire, adesso si deve andare alla storia della Turchia. Non è che la Turchia non ha mai vissuto neanche lontanamente una situazione di democrazia, no? C'è stato un periodo pseudo-democratico dopo l'allentamento del regime militare, creato a suo tempo dall'esercito, dalla Turchia, eccetera, che però ha rapidamente prodotto Erdogan, che è un autocrata appunto che ha costruito la sua forza sul ritorno a una forma di islamismo più rigido. Lo Stato turco costruito da Turchia, teoria era, o perlomeno cercava di essere laico, era anche estremamente pesante a volte con i centri religiosi e con i tentativi di influenza religiosa, ma come tutti i tentativi di eliminare la religione, specialmente in paesi poveri, poco educati, e quando la religione è diffusa, è lì da molto tempo. Con la forza e la repressione, l'unica cosa che ha fatto è creare un sentimento di massa in realtà di ribellione. Su questo c'è un bellissimo romanzo di Panuk. Adesso io sono terribile con i titoli, con la città che è d'inverno, adesso lo trovo. Unvec c'è un bellissimo romanzo. Ne parla spesso Panuk, ma in quello in particolare è molto... Certo. Il rischio è almeno quello che vedo io da... No, quello si chiama snow in inglese, neve in italiano. è che un'area che tradizionalmente è fonte di problemi torni ad essere destabilizzata dopo i disastri e i genocidi, possiamo dire, che sono stati negli ultimi anni. Adesso che si potrebbe andare verso un assetto, torna a destabilizzarsi un'area. Questa è la mia visione da, ripeto, da lettore, ma non da esperto di gioco. Sì, no, da americano c'è la sensazione della... Piuttosto, Michele... La sensazione del tradimento, perché ti ricordo che ce n'è un altro, eh. L'altro tradimento sempre americano fu quello di George Bush, senior, alla fine della prima guerra del Golfo, contro l'opinione di nuovo, anche in questo caso, mi dicono amici americani, washingtoniani, con un certo grado di conflitto di tensione nell'establishment militare americano, che alla fine... Poi c'è anche rapporti umani, stabilisce relazioni, cerca alleati, gli fornisce armi lì a destra e quindi si stabiliscono anche dei rapporti umani, almeno al vertice, anche tra i soldati. Questi sono anni che combattono assieme in quella parte della Siria, no? Del nord-est della Siria, l'hanno liberata da ISIS, quindi anche con questo e come allora l'amministrazione per interessi... Che loro definiscono geostrategici, ma è la scelta di fondo, infatti è la cosa che a me colpisce, finisco, poi dico la cosa che mi colpisce da sempre, è l'odio della politica estera americana. Niente, hanno tradito di nuovo i kurdi, tra l'altro i kurdi vennero letteralmente convinti a insorgere ai tempi della prima guerra del Golfo, dalla propaganda americana, i quali poi li lasciò massacrare questa volta dall'Iraq. Esatto, da Saddam. I kurdi iracheni e poi Saddam ne fece esegito grande violenza, eccetera. Anche con l'uso di gas. Esattamente. Dopo la caduta di Saddam, loro lì si erano costruiti e ci furano un enclave di relativa autonomia, la parte che si era adesso assestata in Siria si univa con questi, ovviamente per Erdogan, per un'azione turca che ha deciso che l'indipendenza kurda non avverrà mai, questa è obiettivamente una minaccia. E lì hai due considerazioni, l'incapacità totale di due potenze economiche e militari come gli Stati Uniti da un lato e l'Europa dall'altro, di piegare attivamente costoro. Proprio che vanno piegati, cioè è chiaro che l'unica soluzione che possa garantire pace e con i criteri nostri, liberali democratici, un minimo di giustizia, cioè di autodeterminazione, no? Di un popolo che ha la sua identità culturale, linguistica, storica, eccetera. L'unica soluzione oggi è una di imposizione. Certo, certo. Devi esercitare un'imposizione sul governo turco e sul popolo turvigiano. Devi forzarli a dare progressivamente, a permettere la costruzione dello Stato nazionale turco, utilizzando il fatto che sei in grado di minacciarli, ma non tanto militarmente, ma soprattutto economicamente. Questa scelta, storicamente, gli Stati Uniti non l'hanno mai fatta. In parte perché gli Stati Uniti hanno sempre pensato che la gestione folle del Medio Oriente da un secolo si fa a mano militare. Cioè, l'Arabia Saudita da un lato, continuamente il regime che vuoi tu, quando andò male, quando pensarono che gli scappava di mano alla fine degli anni 50, c'è dentro al tempo erano gli inglesi, che è una tradizione inglese. Gli inglesi li convinsero al colpo di Stato in Iran, pensarono per lungo tempo che avevano il grande cane da guardia, che era Reza Palleri da un lato e la casa di Al Saud in Arabia Saudita, che questo tra l'altro gli permetteva di fare il filo arabi, di non basarsi solo sulle atomiche israeliane. E adesso, nella visione di Trump, Erdogan è... Una domanda, Michele. Allora, io ricordo una delle interpretazioni più accreditate ai tempi della prima guerra del Golfo, fosse che Bush a un certo punto ordinò la ritirata dei carri armati che stavano per entrare a Baghdad perché una destituzione di Saddam avrebbe poi causato una destabilizzazione di tutta l'aria, visto che poi... Cioè, che aveva ragione, nel senso che fu l'errore che fece il figlio e la destabilizzazione venne. Esatto. Tu ci vedi qualche similitudine con questo atteggiamento di Trump oppure un'altra cosa? No, no. È lo stesso. Cioè, tieni conto che da un lato c'è una strana concorrenza accordo Trump-Putin su Erdogan. Erdogan è molto abito. Loro sono in una posizione strategica totale. Sono obiettivamente forti militarmente in quell'area. Perché è un paese armato seriamente, no? E a mezzo è propenso alla guerra. Come abbiamo visto nei vari su e giù. Erdogan è stato molto abito, non ha paura, no? Cioè, lui ha buttato giù gli eri russi, poi però ha fatto l'accordo brutale con Putin. E cazzo, questo è nato! E quindi c'è un meccanismo di concorrenza collusione. Probabilmente, qui adesso faccio della fantapolitica, queste cose poi la gente le teorizza, ma io credo che le prove finché non vengono release i document 50 anni dopo non le sappiamo. C'è probabilmente un agreement che dice, senti un po', fai fuori i curdi e ritorna a cuccia smettita di fare ruffiano con Putin. Tanto per essere proprio brutale. Putin è tutto contento perché questo gli toglie un altro problema al suo uomo. Perché alla fine questi occupano un pezzo di Siria. Io dubito che i turchi rimangano in Siria dove stanno cannoneggiando, invadano, annettano, faranno delle operazioni di distruzione, di uccisione, di smembramento del governo kurdo, di quel pezzo di governo kurdo che c'è, quando li avranno indeboliti a sufficienza, lasceranno i siriani il compito di recuperare la cosa. Ristabilendo, diciamo, i confini pre-casino. E i kurdi finiranno appunto ad essere le vittime di morte. Allora Bush fece quella scelta perché arrivare a Bagdad avrebbe significato deporre Saddam Hussein e certamente non avevano un piano. Non c'era un piano di sostituzione che li avrebbe creato. Sì, io, sai, su questo sono proprio queste cose storiche contro cui povere piccole persone non possono nulla e non è neanche chiaro che si potrebbe, se si diventasse primo ministro di questo o di quello. Ci sono forze, interessi, strategie militari che vanno un po' al di là anche della tua volontà. A me impressiona, alla faccia appunto dei sovranisti, delle chiacche, i tuoi discorsi sui diritti umani, di cui ci riempiamo, che noi assistiamo come europei a un continuo disastro. Lasciami fare una battuta. L'Europa, come al solito, non ha una politica estera comune, ma non è neanche una politica estera in molti casi. E l'Italia ci arriva con Luigi Di Maio, ministro degli esteri. Il che ha un senso, come dire, di… Esatto, è simbolico. Eh, esatto. Dubito Di Maio abbia una qualche conoscenza dell'antica Corduenna che esisteva… No, ma che dici? L'ha indicata sulla cartina geografica perché non sa dove sta? E dell'agglutinarsi nei secoli dei vari regni turchi. E turchi, i kurdi. Tra l'altro una delle cose divertenti con io è che ho questi problemi di slalia con i nomi, che li inverto, come sai. No, no, non è di slessia, è proprio di slalia, ciò che inverto. Io i kurdi finisco spesso per chiamarli turisti perché mi suona, nella mia testa suonano uguali. Va bene. Sì, è quella la cosa che io trovo francamente drammatica. E poi con conseguenze ovvie perché questo produrrà, capisci, un'altra… Adesso per essere molto egoisti, prepariamoci. Cioè se questo continua, se non è una pura incursione simbolica, adesso ci sono vari che fanno rumori, sanzioni, eccetera. Oddio, no, queste robe andrebbero fatte prima perché questo svegliarsi… Era chiaro da tempo, da quando Trump iniziò il primo ritiro di tutta l'America. Esatto. Cos'era dicembre scorso. Esatto, sì, 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 sì. Dichiarando la guerra, la vittoria contro l'ISIS, era da allora che era chiaro che si stava cucinando l'attacco, l'abbandono dei kurdi prima, il tradimento e poi l'attacco di Erdogan. Quindi se la diplomazia europea si sveglia adesso dicendo… Ho visto alcune dichiarazioni, non neanche ho letto tanto, ma ho visto dichiarazioni più o meno emozionali e esagitate. Facciamo le sanzioni, ti immagino, serve a niente. Però magari Erdogan si accontenta di azioni punitive, non fa un disastro. Se fa un disastro avremmo decine di migliaia di kurdi che fuggiranno. E siccome non potranno fuggire verso la Turchia, non potranno fuggire verso la Siria, cercheranno in qualche maniera di passare attraverso i Balcani e arrivare qua. Arrivare verso ovest, sì, certo. E mettersi a mare, quindi gli influenze sono anche su di noi. Sicuro, sicuro. Ma, niente. Molto triste, è veramente molto triste. Sì, queste sono cose su cui noi possiamo poco, però alla fine possiamo dire questa cosa qua. Siamo osservatori e nulla più, purtroppo è osservatore anche l'Europa che invece potrebbe svolgere un ruolo decisamente più incisivo. Tieni conto che, tra l'altro c'è un altro aspetto che leggevo nei giorni scorsi mentre si preparava sta cosa, che potrebbe creare ulteriori drammi umanitari giganteschi. C'è un fatto obiettivo, i numeri che danno sono svariati. C'è chi dice due, c'è chi dice tre, c'è chi dice addirittura quattro milioni di rifugiati siriani oggi in Turchia. A seguito. Quindi la Turchia da anni sopporta un carico di rifugiati che vivono in condizioni orrende, però sono focolaio di ISIS, di terrorismo, di violenza, eccetera. È notevole. Anche che, prendiamo il numero di mezzo, 3 milioni, la Turchia è più di 100 milioni, per carità, però se noi in Italia andavessimo circa 2 milioni nei campi avremmo, no? Certo, certo. E una delle ipotesi è che letteralmente ciò che Erdogan intende fare sia anche pulire terra per poi passare da lì all'espulsione dei... Ah certo, sì sì. E beh, questo non è ovvio, perché siccome... Cioè non è ovvio cosa produrrà, perché molti di questi che sono fuggiti sono persone che fucivano dal vittorioso Assad, prima da ISIS forse, ma poi anche da Assad, che non è detto che vogliono tornare o che se tornano non vengono... diventano un oggetto di violenza e violenza. Quindi si sta riaprendo un calderone enorme. Si a me infastidisce, proprio infastidisce, che noi la forza economica e politica per piegarli ce l'abbiamo e non la usiamo. Non la usiamo, non facciamo nulla. No, non facciamo nulla. Va bene, va bene, scusami per... No, 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 ma è molto interessante. Tra l'altro sarà uno dei temi delle prossime settimane, dei prossimi mesi, per cui è bene seguirlo. Sì, poi Erdogan ha perso ultimamente, ci sono tante cose, adesso Trump e tutte queste cose, come al solito, il sangue degli umili serve anche per lavare le mani dei potenti. Tutto questo serve sia a Trump che a Erdogan per ragioni politiche interne. Ti stavo dicendo dell'impeachment, infatti. Trump si sta vivendo un impeachment che sta diventando complicato. boh, mi viene quasi da sperare, dalle cose che escono, che la Pelosi, perché è una tosta, abbia fatto i conti giusti. Erdogan ha perso le elezioni in due o tre città molto grandi ultimamente, fra cui Istanbul. Esatto. E quindi, sai, siccome la Turchia è un paese con cultura, che ce l'ha più duro, o più grosso, il bastone più nodoso, non è detto che tutto questo non sia pura propaganda elettorale, seppure la propaganda elettorale è ancora più cinica. Vabbè. Politica è una brutta cosa. Veniamo un po' alle cose italiane. Veniamo alle cose italiane. Ah, Michele, ti devo fare un annuncio, tu non lo sai. Oggi hanno tagliato i parlamentari, cioè ieri veramente. Gli amici hanno fatto quelle robe da circo, ne hanno messo dentro una, l'ha fatto con la sega. Ho tagliato i parlamentari. No, ancora vivo! La grande battaglia di Gigino Di Maio è arrivata a termine. In realtà non è arrivata a niente, infatti. Cioè, dove hanno provato? Hanno provato la cosa in camera? No, ma... Non ho letto i titoli, ma... Allora, c'è una cosa, lo dissi tempo fa. A me, sinceramente, io non so, sono assolutamente neutrale su questo. Non so se è una cosa buona a ridurre il numero dei parlamentari. Probabilmente sì, probabilmente no. C'è un problema sicuramente di rappresentanza, perché andranno comunque ridefiniti i collegi. Adesso c'è già chi sta facendo i conti, e in particolare l'ha fatto l'osservatorio elettorale del Veneto. Di quanti senatori il Veneto dovrà... A quanti senatori il Veneto dovrà rinunciare? Le solite cose... Scusa, spiega per un poveretto come me, cioè... Sì. Lo capisco, ne hanno tagliato i 900... Cioè, scusami, 345. Esattamente. Quindi poco più di un terzo, tra l'altro. Poco più di un terzo, sì. Allora, i deputati sono 632? Sono 630, 315 senatori. 30, esatto. Quindi quanti deputati in meno? Avremo 400 deputati e 200 senatori. Quindi un taglio di 345 parlamentari. E ovviamente... Ma ripeto, io non prendo nessuna posizione. Primo aspetto ovvio, cresce la soglia. Cresce la soglia, primo aspetto ovvio. Poi c'è una ridefinizione dei collegi elettorali. Ma a me, come al solito, la cosa interessante, perché sono un disgraziato, a me interessa come poi viene venduta politicamente la cosa, con il Movimento 5 Stelle che esulta, che parla di risparmi fantasmagorici di spesa, che invece non stanno nel cielo né in terra, anche ad un occhio poco attento. Nella fattispecie, l'occhio poco attento è stato il mio, che ho semplicemente letto quello che ha scritto Di Maio su Facebook e come ha aperto stamattina il blog delle stelle con questi 300 mila euro al giorno di risparmi, che se fai due conti non esistono. Due conti ha provato a farli l'osservatorio quello di Cottarelli della Cattolica. 300 mila euro al giorno? Beh, allora il miliardo annunciato, cos'è, su un arco di dieci anni? Un arco di dieci anni, evidentemente. Ma guarda, ma ti faccio vedere, perché poi nei prossimi giorni la... Come dire? Il grosso di queste spese per i parlamentari sono spese fisse, quindi quelle rimarranno. Te le faccio vedere, te le faccio vedere e le faccio vedere anche al pubblico, se riesco a trovare lo share. Allora. Allora, questo qui è la nota di bilancio della camera. Spero che si veda bene, che si legga bene. Altrimenti aumentiamo un pochino. Usa il più per aumentarla. Io la vedo, ma nei telefonini forse non la vedono. La aumentiamo ancora un po'. In verità dei deputati, qui se parliamo della Camera, abbiamo 81 milioni di spesa, che insieme... Hai promesso ma non l'hai mantenuto. Hai detto, l'aumentiamo ancora un po' però non l'hai aumentata. Aspetta che aumentiamo ancora un po'. No, l'ho aumentata parecchio. Adesso si dovrebbe vedere meglio. E abbiamo 63 milioni, 65 milioni di rimborsi vari. Adesso è inutile entrare nel dettaglio. Comunque abbiamo una spesa di 147 milioni per, virgolette, stipendi dei parlamentari. Quando preparare il documento, appena ne avrò tempo, farò questa analisi costi-benefici della riforma 5 stelle, terò conto di tutte le voci, perché bisogna sapere che poi l'indenità dei nostri parlamentari è molto varia. Cioè ci sono parecchie voci, lo stipendio in realtà è intorno ai 5.700 euro, se ricordo bene, poi attraverso le varie voci arrivano ai 12.000 euro mese. Questi sono invece gli emolumenti per il personale, che sono superiori agli stipendi dei parlamentari. Alla somma degli stipendi dei parlamentari... Aspetta un attimo, Costa, non so se quello che io sto vedendo sia quello che tu credi si veda, eh. Personale dipendente. Eh no, mi stai facendo vedere, io vedo shared una tabella da PDF, hai un testo 10... Ah, no, scusa. Hai Nadef 2019-3... Secondo me tu hai... Ah, ho sbagliato lo share, ok, ok, ok. Mi stai facendo vedere le percentuali finali sul PIL della nota... Sì, 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 aspetta un attimo. Per cui io dicevo, boh, avrai anche ingrandito, ma... No, 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 aspetta che troviamo il modo di bloccare lo share, se esce... Togli lo share e devi ricominciare da un'altra window, te lo tolgo io. Devo... Eh, se me lo togli tu perché non esce il comando. Comunque, aspetta, non sono clavata neanche io adesso. Come se si fosse bloccata. Si è bloccata, infatti. Questo è il mio remote control, ma questo non funziona. Scusateci. Ecco. Eccolo qua. Allora, vediamo un attimo di recuperare lo share. Attipare, eccolo qua. Avevo troppe... troppe pagine aperte. Come tutti noi. Adesso si vede. Adesso, perfetto. Ok. Allora, indennità dei deputati, 81 milioni. Rimborso spese, 65 milioni, quelle complessive. Per un totale di 147 milioni e 206. Quindi già adesso, ad occhio, senza dover prendere necessariamente la calcolatrice, vediamo che i conti di Di Maio non ci sono. Cioè i 300 mila euro al giorno non ci sono. Beh, sì, perché su quasi mille deputati, sto facendo una divisione, bisogna dividere per 365 mila, qui 147. Mamma mia. Mi si sono bloccati. Ma non ci sei, Michele, non ci sei. Non ci si arriva. Non ci si arriva. Piuttosto mi concentrerei su quest'altra voce, monumenti per il personale dipendente, che sommano a 180 milioni, con 347 delle indennità. Quindi se si vuole mettere mano al bilancio della Camera in questo caso, non è neanche la voce delle indennità dei parlamentari quella più pesante. Cioè la Camera, così come il Senato, così come il Quirinale, eccetera, 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 sono dei moloch di spesa pubblica, non particolarmente significativa all'interno del totale della spesa pubblica, ma comunque dei moloch di spesa pubblica, dove probabilmente i costi di funzionamento incidono molto di più degli emolumenti ai parlamentari. Ma ripeto, poi mi dedicherò ad analizzare... No, no, esatto. Era infatti quello che dicevo brevemente, dicendo lì il vero problema sono i costi fissi, il personale, l'edificio, eccetera. Esatto, esatto. Qua ci sono tantissime voci di spesa che arrivano ad un bilancio che sfiora il miliardo, tra l'altro, è poco sotto il miliardo. Questo è il bilancio approvato 2018, che è stato approvato, tra l'altro, due mesi fa, due mesi e mezzo fa. Quindi questa è la situazione. Loro bantano questi risparmi fantasmagorci e mi viene in mente che il nostro amato Gingino Di Maio spesso ha spacciato per grandissimi risultati quello che era Fuffa. Oggi pomeriggio parlavo con un amico, proprio dell'ex ministro dello sviluppo economico, perché gli ho ricordato, lui lo difendeva in qualche modo, e parlava di investimenti pubblici. Io gli ho ricordato che poco meno di un anno fa, a dicembre dell'anno scorso, Gingino Di Maio parlava di un piano clamoroso, straordinario di investimenti pubblici per 120 miliardi. Che cosa aveva fatto il nostro? Aveva preso il bilancio, la previsione di bilancio industriale della Cassa Depositi e Pressi su tre anni o cinque addirittura e si era attribuito i meriti di questi 120 miliardi. Cioè un piano... Aveva dichiarato onestamente che è un ente pubblico, un pezzo del ministro del Tesoro. Tra le altre cose. Tra le altre cose. Vedi che... Tra le altre cose. Come dicono a Venezia, Arlecchins e Confessaridello. Esatto, esatto. Quindi si spacciano, come sempre, balle e noi siamo qui per smontarle. Adesso troverò un po' di tempo, ma questo è un giochino che voglio fare perché mi diverte moltissimo. Poi ripeto, sul discorso rappresentatività io non ho un'idea. Me la formulerò nei prossimi tempi. So che molti nostri amici stanno raccogliendo le firme per il referendum consultivo, cioè confermativo, sul taglio dei parlamentari. Loro sono contro il taglio dei parlamentari. Io non ho posizione. Poi vi darò. Me la formerò. Sì, sono d'accordo con te. Faccio una riflessione pensandola adesso di cose che ho pensato. I parlamentari italiani se li confronti, che so, agli Stati Uniti rispetto alla popolazione, anche altri paesi europei sono sull'alto. Quindi, per carità, anche se... Queste sono, va detto, queste sono tutte mosse simboliche. se facessero parte di un piano in cui le spese dello Stato vengono razionalizzate e ridotte, ci sta anche quella. No? Esatto. Non ci stia. Ci sta, ci può stare. È un puro atto simbolico di propaganda che poi le altre spese, risparmi 300 milioni, che sono uno sputo nell'universo, negli 800, quasi 900 miliardi, di spesa pubblica, ovviamente fai solo propaganda. a proposito, ti do il dato preciso perché esattamente oggi è uscito il dato di bilancio assestato, sono 869 miliardi. 969? 869 miliardi. Ah, 869, infatti io mi ricordavo un numero un po' sotto a 900. 869, è uscito oggi il dato. Esatto. Quindi, chiunque parli di questa cosa come una maniera per risparmiare spesa pubblica fa ridere. A me sembra che l'aspetto politico, proviamo a ragionare, non lo so, l'aspetto politico e cioè di rappresentanza è quello rilevante. Cioè, io credo che una, io sono sempre stato a favore di un bicameralismo diverso, stile federale, ma questo perché la vedo io, cioè l'Italia avrebbe bisogno di questo. Se questa cosa tu la fai riformando il Senato e redistribuendo con un Senato più piccolo i senatori con una funzione stile Bundesrat, ben venga, ma non c'è nulla di tutto questo. No? Assolutamente. No, non c'è nulla. Nella situazione attuale già le soglie per i senatori a livello regionale sono alti, l'unica cosa che fai è appunto ridurre la soglia di entrata e adesso la applichi anche alla Camera. Questo quindi ti dice, vabbè, riflettiamo sulle soglie e ritorniamo alla questione della legge elettorale alla fine. Altra cosa, altra cosa. Ora, va bene che la legge elettorale è sempre imperfetta, però, santi Dio, da quando voto e sono alcuni decenni, io credo aver votato con la stessa legge elettorale due volte. Cioè, in ogni legislatura c'è il tema della riforma della legge elettorale. Francamente non se ne può più. Sì, questa è una follia. Purtroppo questa è una degenerazione antica che ormai dura da tutta la cosiddetta seconda repubblica secondo cui praticamente ogni governo o quasi la nuova maggioranza ripropone questa cosa della riforma della legge elettorale. Si era creata ai tempi 92-93 questo consenso popolare che la legge elettorale proporzionale non andava, andò tutto malissimo ti ricorderai, Certo. E' abbandonato, eccetera. e adesso è una forma di ipocrisia politica perché c'è un vago consenso nel paese che sì la legge elettorale che abbiamo non va bene il meccanismo istituzionale non va bene. Io molto ingenuamente consapevole di ingenuità dico signori l'Italia ha bisogno di un'assemblea costituente perché abbiamo una struttura istituzionale costituzionale che chiaramente non è adeguata al secolo in cui viviamo e nelle situazioni in cui viviamo. Nessuno ovviamente ha alcun interesse di farlo tutti cercano di utilizzarselo a prodomo proprio. Adesso la questione suppongo diventerà anche proprio di lotta politica sono molto curioso di vedere cosa intende fare il mondo renziana insomma le frattaglie vicine al PD perché questa cosa cioè o tagliano i parlamentari e però al contempo fanno una legge elettorale totalmente proporzionale con nessun sbarramento di nessun tipo a quel punto vabbè se fai un po' di uninominali da qualche parte anche i partiti più piccoli qualcuno prendono. se questo non lo fai hai di fatto introdotto delle soglie di entrata maggiori probabilmente dell'attuale 4% senza dirlo. Esatto. Un po' più o meno così. Sì. Noi tra l'altro questa battaglia culturale l'abbiamo sempre fatta che poi è anche una battaglia di principio. Se fai il proporzionale e quindi intendi premiare la rappresentatività del Parlamento mettere soglie di ingresso troppo alte significa sconfessarti. Cioè o si scelgono sistemi elettorali dove è la governabilità al centro oppure si fa una scelta invece di massima rappresentatività come nella prima repubblica. Questo fare un po' l'uno un po' l'altro è tipico italiano e di solito l'esperienza ci dice che porta a disastri in un senso e nell'altro. Per finire su questo simbolo per simbolico per simbolico mi viene ricordato visto che volevano fare i simbolici potevano anche eliminare i senatori a vita io personalmente ho una grande ma non personale mi sembra è una tipica istituzione mista di questo paese che è incapace di trasformarsi istituzionalmente in maniera completa se uno ci pensa il senatore a vita è una specie di residuo monarchico esatto dove il ruolo del monarca è sostituito dal presidente il presidente ogni tanto elegge senatori a vita poi questi appunto durano vita natural durante quindi gli equilibri del senato dipendono dalla demografia e dallo stato di salute di quelli che vengono eletti che fa un po' ridere e lascia di nuovo non è certo una questione di costi è una questione simbolica politica i senatori a vita sono un'istituzione che con democrazie parlamentari rappresentative bla 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 non c'entra nulla a mio avviso e tra l'altro purtroppo sono diventati a volte cruciali con giochetti di tirarli dalla giacchetta da un manico della giacca da un lato o dall'altro perché votino non votino la fiducia si addirittura spesso sono diventati determinanti per la tenuta del governo eh sì sì quello che dicevo ci sono state alcune occasioni in cui il senatore a vita che è una specie di istituzione onorifica si inventassero un'altra roba se davvero riteniamo che alcune persone per non lo so meriti propri capitato sono in buona parte ex presidenti della repubblica c'è Monti che sappiamo ci è arrivato nella maniera in cui sappiamo e poi un po' di personalità del lavoro della scienza che sia Renzo Piano la Segre eccetera per carità persone degnissime che hanno dato grandi contributi costruisci una cosa onorifica non lo so un cavalierato sì una variante del Collège de France per l'Accademia Francese li metti lì gli dici guarda ti vogliamo tanto bene vogliamo attribuire un super cavalierato esattamente li chiamiamo boh cos'è sopra il cavaliere boh non lo so perché non lo prenderemo mai noi non lo so dici che per il nostro servizio pubblico non ti faranno mai i cavalieri della repubblica non credo non credo neanche Fantini no forse Staglieri 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 va beh insomma questo invece in tutta questa cosa ti molesto di nuovo ho provato ad aggiornarmi prima di collegarci leggendo di qua e di là notizie ho aperto le pagine web dei quotidiani italiani e mi sembra che su queste questioni IVA e giochetti fiscali ci sia una confusione non da poco ma allora le date allora il 15 tu che segui il 15 di questo mese dovrebbe essere presentato il documento programmatico di bilancio secondo me non ce la faranno esattamente come è successo per la Nadef chiederanno una proroga e quindi si andrà a lunghi come tra l'altro si è sempre fatto perché una cosa che diciamo spesso è che è bene ricordare è che questo governo è in assoluta continuità con gli altri non soltanto con quello giallo verde ma anche con quelli precedenti numero uno dopodiché poi dovrebbe essere presentata cinque giorni dopo la legge o meglio la bozza di legge di bilancio per l'approvazione da parte della commissione ora in questi giorni sono usciti alcuni numeri che non sono propriamente positivi al di là di quello che sta succedendo sul comparto manifatturiero industriale che lo sappiamo e lo diciamo da tempo c'è un declino oramai inarrestabile non si è acuito il problema però il declino continuo abbiamo indici industriali che continuano a scendere più di un punto c'è un dato che è in controtendenza rispetto a quanto si era detto qualche mese addietro e rispetto a quelle che erano le previsioni di questo governo chi ci segue sa sicuramente si ricorderà che uno dei motivi per cui la manovra di bilancio sarebbe stata meno onerosa per le tasche nostre degli italiani era il fatto che già eravamo in surplus rispetto all'anno scorso con le entrate tributarie nel trimestre precedente avevamo un avanzo di entrate tributarie di circa 2 miliardi di euro tant'è vero che le proiezioni ci portavano a più 4 più 4,5 considerando il periodo natalizio che di solito è abbastanza generoso e invece e invece l'ultimo dato uscito due giorni fa mi pare che sia uscito il 7 da parte del MEF ci dice che siamo indietro di 1,2 miliardi rispetto all'anno scorso questo cosa significa? A che c'è c'è stato uno slittamento nell'autoliquidazione quindi può essere un fatto come dire abbastanza normale e automatico B che però le previsioni devono essere riviste a ribasso e quindi quella proiezione che si faceva e sulla quale per esempio Tria prima di lasciare ma anche Gualtieri appena subentrato contava devono essere un attimo ripensate nel contempo è aumentato di oltre 5 miliardi il fabbisogno dello Stato siamo ad un valore record di 54,5 ci siamo sempre mantenuti tra i 45 e i 46 e i 50 non abbiamo mai negli ultimi anni almeno superato questa soglia e le previsioni invece di debito pubblico a fine esercizio che erano 2359 miliardi i stock di debito pubblico accumulato DEF di aprile di quest'anno sono state ampiamente sballate perché abbiamo già superato a luglio la soglia di 2400 miliardi siamo a 2409 è vero per il solito giochetto del famoso conto di tesoreria più volte evocato questo significa che probabilmente verso fine anno come sempre si fa si toglierà un po' di provvista dal fondo di tesoreria e lo si lo si utilizzerà per abbattere il debito pubblico siamo fuori di molto spiegare come funziona questo perché ha a che fare con questioni competenza e cassa è competenza e cassa esatto se uno è familiare con bilanci partite doppie competenze capo esatto allora il conto di tesoreria è debito pubblico sono poste che servono a pagare gli impieghi dello Stato io quindi lo alimento normalmente viene alimentato con emissioni di debito pubblico a proposito 290 miliardi quest'anno di emissioni lo alimento praticamente alimentandole non utilizzandolo oppure aumentando la provvista io di fatto faccio traslare una serie di pagamenti che cosa succede normalmente a fine anno che il MEF va nel conto di tesoreria preleva una trentina di miliardi li fa uscire da quel conto e in questo modo lo stock di debito pubblico si abbatte cosa succede il mese dopo nel senso che compra debito o non nel senso per esempio che compra debito che li alimenta esatto esatto cerca di chiudere il fine anno con una cassa il più piccolo possibile esatto che poi rialimenta di solito a gennaio se si guarda storicamente l'andamento del conto di tesoreria può fare chiunque collegandosi o sul sito della ragioneria generale dello Stato sul sito del MEF lo trova si vede che c'è proprio questo dicembre scende di una trentina di miliardi 20 25 30 miliardi a gennaio viene ricostituito allora possiamo dire forzando un po' le cose che un trucco contabile anche se è consentito ovvio che lo è sai che non hai i pagamenti urgenti quindi puoi prendere il rischio di essere basso di cassa per 2 3 4 settimane esatto e poi siccome non puoi permetterti di vivere basso di cassa tutto l'anno a metà gennaio fai una fai un'asta di botto similia più ampia del normale e recuperi ti rimetti in cassa quello di più esattamente esattamente comunque fatto sta fatto sta che noi abbiamo già superato ampiamente lo stock di debito pubblico previsto dal DEF e ci siamo praticamente vicini adesso aspettiamo il dato di agosto siamo molto vicini alla soglia di debito pubblico prevista dalla NADEF quindi questo teoricamente significherebbe che non potremmo fare ulteriore debito pubblico da qui a fine anno altrimenti sbagliamo i conti sappiamo che li sbaglieremo comunque ho capito senti un'altra cosa che non sono riuscito bene a capire mancanza mia per cui mi educo educando me stesso soprattutto te insomma nel senso spero non non esagerare puoi ne affagolta e quindi magari aiuto anche quei pochi nostri ascoltatori che sono nella mia stessa condizione io non ho ancora capito dove trovano i soldi i famosi al di là di quelli su cui abbiamo ironizzato che avevo capito anch'io trovati sotto il tavolo tu hai idea di cosa abbiano in mente? questo è un bel mistero qui si continua a parlare di nuove spese per cui c'è addirittura il bonus nascita che è tirato in ballo ma il bonus nascita quello lì è veramente una follia quello lì sono capace di fare i conti anch'io cioè se spendono quello che hanno dichiarato sono quasi 30 miliardi all'anno appunto appunto non lo so allora loro hanno presentato una adef che cuba circa 30 miliardi sapendo già che almeno 6 o 7 mancano e abbiamo anche visto e l'abbiamo commentato sabato a a Villa Torretta che è fatta per una gran parte quasi il 50% da flessibilità quindi al nuovo deficit e dove trovano i soldi per fare tutto o per contenere il deficit al limite che hanno posto io francamente a oggi non lo so e dai giornali assolutamente non si legge cioè i conti che vengono raccontati non stanno in piedi aspettiamo i documenti che usciranno aspettiamo la famosa famigerata bollinatura della ragione del generale dello Stato e vediamo che cosa viene fuori ma ad oggi non c'è la più vaga alba di quello che vogliono fare io ho cercato di raccapezzarmi nell'ora precedente ma non si trova e non ho trovato molto senso ho trovato dichiarazioni le più varie ma non ho quadrato niente vabbè allora la mia reazione è se il bilancio dello Stato e non lo sa Costantino inutile che perda tempo aspetto quante settimane aspettiamo? due o tre? sì sì un paio di settimane dovremmo sapere qualcosa va bene senti carissimo io direi che un tot ne abbiamo dette eh non male dovremmo andare avanti al solito però visto che noi siamo praticamente il contorno e il dolce della della destrutturata della destrutturata ci diamo un bacione virtuale infatti bene ok buona serata Costantino ciao Michele ciao ciao abbracci